Siamo pronti? Sì Tempo non dei migliori Partenza a freddo E siamo già al 12-13 Perfetto Vediamo già le madonne Qui macchinone come se piovesse Forse le regalano Cresco come una rosa Quase Ma passita Il culmine Non male 550 metri Da quando siamo partiti Praticamente dal parcheggio Perfetto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Te fidati di me. Il 5 km il numero più basso è il 15%. Non male. Pensavo di farlo da solo e non pensavo ci fosse qualche matto che mi seguisse. Dai eh. 17% non sentirlo. Si sente, si sente. Aiuto. Sensazione a caldo. Bestiale. Nel caso i fiori da mettermi sulla tomba. Questa è la pre-punta veleno. Mi piacerebbe che fosse finita. Molto. Non vedo l'ora. Freddo cane. Nero, 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 nero. Nero, 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 nero. Fanno salita. Fanno salita. Fanno salita. Fanno salita. 9 birre guadagnate 1.644 di dislivello